Rinsaldato anche quest'anno lo stretto legame che Olea tiene da diversi anni con la Mesa dei Poveri di San Paterniano. Ad arrivare sulle tavole della mensa l'olio che i produttori hanno inviato all'Associazione Nazionale per l'annuale concorso L'Oro d'Italia 2016, che è l'associazione di promozione di uno dei presidi di maggior pregio in ambito alimentare che l'Italia possa vantare, organizza da diversi anni. Per la verità l'olio extravergine di qualità non è così ben conosciuto nel mondo e noi dedichiamo il nostro tempo proprio alla divulgazione e alla valorizzazione che questo prodotto merita. In questi giorni è in atto la selezione e l'evalutazione degli oli per l'edizione 2017 che anch'essi finiranno sulla tavola della mensa che riceve questo frutto della terra donato dai produttori con una duplice gioia. Questo gesto va oltre la generosità e il fatto materiale di darci dell'olio ma innesca un circolo virtuoso perché innanzitutto consente di assaggiare, di assaporare, di gustare un'eccellenza nazionale del nostro territorio anche a coloro che sono più svantaggiati e che magari non potrebbero permettersi di comprare queste prelibatezze. A suggellare questo forte legame tra territorio e denti di carità, Monsignor Armando Trasarti presente alla cerimonia di consegna. Fare il bene fa bene. Fa star bene la gente che lo tiene ma fa star bene anche chi lo fa. Se vuoi star bene fa il bene e farlo bene però, senza ostentazione, con umiltà ma sempre con quella mano tesa e mai rancorosa. Grazie.